Buona giornata. Quanto e come ci si accorge a volte troppo tardi di certe cose, di certe persone ad esempio non amate, di certe cose non dette, di certe parole non sussurrate, di certi fatti non compiuti in decisioni. A volte ce ne accorgiamo troppo tardi e questo non vuol dire che dobbiamo avere dei rimpianti enormi e grandi, forse per alcuni sì in questo, ma sicuramente questa lezione diciamo ci può aiutare nel nostro oggi, nel modo con cui non lasciamo troppo le cose lì, ma non perché dobbiamo essere veloci nel decidere o veloci nel diciamo dare una risposta ecco, ma proprio perché a volte il fatto di sedimentare, a volte il fatto di saper decantare aiuta ad avere una chiarezza migliore, aiuta a prendere una decisione più ponderata, però intanto la prendo. Che non siano troppo tardi certe decisioni, anche perché alla fine la coscienza parla e parla ad ognuno di noi, nel modo con cui anche oggi sai se è tardi, troppo tardi, oppure non è più quell'occasione per poter fare. Che il Signore ti illumini in questo discernimento. Buona giornata.